molto tempo fa pensavamo che il fascismo fosse una poesia la poesia stessa del ventesimo secolo e mi dico che ciò non può morire il mio fascismo non è quello borghese non è l'ordine e pulizia il mio fascismo non è l'imperialismo in Libio, in Etiopio, in Albania il mio fascismo non è tremorario certo che è meglio se arriva a puntuale ma lo sai ci vuole ben altro per costruire un vero ideale il mio fascismo è quello del 19 che va ritorna nel 43 con la repubblica sociale contro gli inglesi e contro il re contro i russi e gli americani per un'Europa senza padroni per un'Europa realmente di vera, per un'Europa delle nazioni e al fascismo mi vuol dannare contro i potenti e gli snuttatori e contro i soliti ventensanti che stanno sempre con i vincitori e al fascismo mi vuol dannare per un futuro di libertà contro la noia del nostro tempo per una nuova società Il mio fascismo non è certo quello di chi voleva un golpe militare Non è quello degli accordi sotto banco per aiutare chi vuol governare Il mio fascismo non è certo quello della stazione di Bologna Che poi la bomba disse a chi l'ha messa, non certo chi oggi paga con l'agonia Il mio fascismo è quello di pochi giovani che hanno lottato contro il mondo intero Che sono morti ad arca valenza e che hanno amato un vestillo nero Come il Marco non è che voce bianca ma una croce particolare Che mi basta leggerla su un muro per cominciare subito a sognare A sognare di un lampo offi con un concetto della tua compagnia Ognuna strana manifestazione di chi cercava la terza via Il mio fascismo è quello di chi vuol lottare contro i potenti e disfruttatori E contro i soliti ben pensanti che stanno sempre con i vincitori Il mio fascismo è quello di chi vuol lottare per un futuro di libertà Contro la noia del nostro tempo per una nuova società Contro la noia del nostro tempo per una nuova società Contro la noia del nostro tempo per una nuova società Grazie a tutti.